Nuovo veliero a carico di migranti bloccato dalle forze dell'ordine. I velivoli in dotazione al gruppo aeronavale della Guardia di Finanza di Vivo Valencia sono riusciti ad individuare a largo delle coste italiane un natante diretto a punta stilo in provincia di Reggio Calabria. Proveniva dalla Turchia con ben 55 persone a bordo tra iraniani e iracheni. A condurre il veliero tre scafisti ucraini. L'imbarcazione è stata raggiunta dalle motovedete della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. I migranti sono stati trasbordati sulle due unità navali italiane e condotti assieme al veliero al porto di Roccella Ionica. Qui si è provveduto l'identificazione degli stranieri a bordo e dall'arresto dei tre scafisti. Ai magistrati italiani dovranno rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dalle prime indagini degli inquirenti è emerso che ogni migrante ha versato agli scafisti 5.000 dollari per passare dalla Turchia al nostro paese. La meta finale, anche in questo caso, il Nord Europa.